Intro Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi vi mostrerò quali sono le migliori truppe da donare in clan war Prima di cominciare premetto due cose La prima è che questa ovviamente è una combinazione di truppe che varia a seconda di quanto spazio avete nel castello del clan Siccome alcuni hanno magari 35 slot, altri ne possono avere 20 La seconda è che questa formazione non è necessariamente la migliore in tutti i casi Perché magari alcune formazioni per TH10 richiedono il mastino per funzionare bene Come magari alcune formazioni per villaggi che hanno appena fatto il castello del clan richiedono la strega Perché è una truppa che con solo i 12 slot, quindi sta in qualunque castello Permette di difendere con appunto la strega e tutti gli scheletri che può evocare Detto questo andiamo a svelare questo piccolo segreto che non è utilizzato solo dal nostro clan Ma anche da altri clan che abbiamo incontrato durante le war Le truppe in questione sono rispettivamente draghi e mongolfiere Si dona un drago e si occupa il resto dello spazio con le mongolfiere A seconda di quanti slot ha a disposizione il nostro compagno Quindi se avrà 20 slot doneremo solo un drago, se ne avrà 25 Un drago e una mongolfiera, se ne avrà 35 Un drago e 3 mongolfiere A cosa è dovuta la scelta di queste truppe? Abbiamo scelto queste truppe in seguito all'ultimo aggiornamento per due motivi Il primo è che il drago è una truppa che è stata potenziata E quindi adesso è disponibile sia il 5 per i TH10 sia il 4 per i TH9 Il secondo motivo sono le pozioni nere Perché la pozione più utilizzata al momento è anche quella che si sblocca prima Ovvero la pozione di veleno Perché permette a chi attacca di far fuori molto facilmente magari barbari, arcieri O comunque truppe piccole in massa che possono uscire dal castello del clan Ebbene, con questa combinazione di truppe le pozioni di veleno non avranno effetto Perché il drago perde veramente pochissima vita Mentre le mongolfiere ne perdono sì un po' di più Però comunque non muoiono in nessun caso con le pozioni di veleno Almeno che non ne vengono utilizzate parecchie Quindi l'unica soluzione che avrà l'avversario per gestire queste truppe Sarà o farle uscire Che però vuol dire perdere molto tempo E spesso non avere più il tempo per fare le tre stelle Oppure cercare di distruggerle con l'attacco Che però è un rischio Perché le mongolfiere sono truppe molto lente E quindi usciranno dal centro del villaggio Sperando che abbiate il castello del clan nel centro del villaggio Molto lentamente E quindi probabilmente incontreranno le prime truppe che sono davanti Quindi ipotizziamo un go wipe Troveranno sicuramente i golem Che sono truppe che non si possono difendere dalle mongolfiere E siccome le mongolfiere infliggono molti danni Sicuramente avranno dei problemi Inoltre anche il drago Che è una truppa leggermente più veloce È molto molto forte Fa molto danno E quindi è facile per buttare giù i reali O semplicemente parare anche qualche colpo della regina La possibilità che hanno queste truppe Ovvero di assorbire molti più colpi di magari maghi o della regina È un grosso vantaggio Perché dà più tempo alle nostre difese Per infliggere danni alle truppe nemiche Detto questo ragazzi Andiamo a vedere alcuni dei replay Che sono stati fatti dai nostri membri del clan La prima difesa che andiamo a vedere È stata realizzata da Mateus Come vedete Mateus è questo TH9 molto ben messo Che è stato attaccato con ben 43 domatori Allora è molto semplice Soprattutto con i domatori maxati Far uscire le truppe del castello del clan Perché appunto scavalcano le mura Ed entrano subito nel raggio del castello Purtroppo Mateus ha commesso un errore Perché ha una casetta del mulatore nell'angolo Questa cosa non bisogna assolutamente farla in clan war Perché come vedete Permette di tirare tutte le truppe del castello del clan Subito fuori E purtroppo Adesso cosa succederà? Il nemico non aveva truppe Per distruggere tutte le nostre truppe del clan Perché aveva solo due arcele a disposizione Allora decide di buttare la pozione di veleno Così vediamo che la pozione di veleno Fa veramente poco danno alle truppe del clan Decide di mandare le sue truppe del clan Che muoiono praticamente subito Però c'è anche un drago insieme Questo drago è purtroppo solo al 4 Quindi cosa succede? Che non riesce a vincere contro la drago al 5 E quindi il nostro avversario è stato costretto Addirittura a buttare subito la regina Ma come vedete La regina ha preso un bel po' di botte Guardate è rimasta praticamente senza vita Allora il nostro nemico ha solo più a disposizione i domatori Per fare almeno il 50% Anche se la cosa è fattibile È molto molto difficile Anche se utilizzerà le pozioni di cura E tutto quello che vuole Avrà molte difficoltà come vedrete Perché adesso i domatori veramente sono micidiali Perché con le cure diventano una cosa invincibile Praticamente anche se incontrano le bombe giganti Non muoiono Però come vedremo Adesso per fare il 50% Ha solo più il re barbaro Perché i domatori punteranno alle difese Non avrà una truppa che pulisce diciamo E infatti butta il re barbaro Attiva subito l'abilità Ma come vedete Il re barbaro può fare veramente poco Siccome Le mura all'8 e al 9 Sono molto difficili da buttare giù per un re barbaro al 10 Inoltre incontra anche l'altro re barbaro Quindi veramente troverà molte difficoltà Arrivano pure gli scheletrini Veramente avrà molte difficoltà questo re barbaro Infatti adesso velocizzo E non riuscirà assolutamente ad arrivare al 50% Si fermerà mi sembra sul 40% Non vorrei dire cavolate Non è anche sul 39% ragazzi Comunque assolutamente non raggiungerà il 50% Il secondo replay che andiamo a vedere È stato realizzato da DJ James Questo TH10 Che è stato attaccato con una go wipe Tra l'altro con i golem al 5 Quindi piuttosto forte Ma l'errore che ha commesso il nostro avversario È stato quello di schierare tutte le truppe In un solo punto È una scelta sempre sconsigliata Perché le difese a raggio Come possono essere le torri del mago I mortai E soprattutto le truppe che usceranno dal castello del clan Permettono di infliggere i danni a più truppe E quindi la cosa non è per niente buona Come vedete qua lancia la veleno Perché anche in questo caso ho utilizzato una veleno Le truppe moriranno piuttosto in fretta Ma come vedete Moriranno per i colpi della regina Appunto la regina sparerà loro Loro comunque cadendo faranno comunque dei danni ai golem E anche se sono durate molto meno in questo attacco Hanno fatto la differenza Perché hanno praticamente rallentato e ucciso La maggior parte se non tutte Le truppe che aveva mandato il nostro avversario E come vedete Adesso può solo più sperare di fare il 50% Quei pecca che sono rimasti Ma le truppe sono sempre nello stesso punto E quindi prenderanno tutti quanti i danni insieme Anche la bomba di gigante Esplodendo Ha fatto il suo danno Che è veramente alto A tutti quanti i golem Inoltre c'è anche il re barbaro E ragazzi veramente E' molto difficile fare una stella In questa situazione Perché anche se ci sono i golem I golem hanno poco attacco Adesso che hanno deciso di colpire un muro Rimarranno bloccati E non ha assolutamente nessuna possibilità di fare una stella E come vedete Con i TH10 questa formazione dura Come dicevo prima molto meno Perché veramente in pochissimo tempo Le truppe muoiono Però possono fare differenza anche in questi casi Il terzo replay ragazzi E' stato fatto di nuovo da Mateus Perché dopo l'attacco con i domatori E' stato attaccato con un go wipe E qui veramente non ho capito La scelta dell'avversario Di attaccare subito con i golem L'avversario sapeva cosa c'era nel castello del clan Con due domatori o due mongolfiere Poteva far uscire le truppe del castello A tirarle nell'angolo Grazie a quelle casette del muoatore Che sono veramente un errore E far fuori facilmente le truppe Invece ha buttato subito la go wipe E come vedete Un golem morirà praticamente subito Perché è stato lanciato male Farà il giro Perché ci sono delle difese esterne E qua appunto usceranno le truppe E come vedete Questo giocatore aveva una regina A livello 20 Come vedete ha mandato i maghi Che sono morti quasi tutti subito Per i draghi del mongolfiere Quindi questo vuol dire già avere meno potenza di attacco Inoltre la regina si è venuta a vedere col drago Che addirittura Nonostante sia al 20 Morirà Logicamente poi ha buttato Dei maghi Veramente con le furie lanciate malissimo Proprio per cercare di fare il 50% Per la disperazione Ma non ce la farà assolutamente Perché ha solo più i pecca Che possono fare qualcosa Ma adesso incontreranno le tesla E li friggeranno Praticamente subito Come vedete ragazzi Non ha avuto praticamente nessuna chance Nonostante avesse Una regina al 20 La regina al 20 ragazzi Doveva buttare giù molto facilmente le truppe Invece lanciata male Come avete visto O meglio lanciata male Lanciata insieme alle altre truppe male Ha praticamente Non ha praticamente avuto nessun effetto E neanche questo pecca Che gira e cerca di fare il 50% Riesce a sopravvivere Veramente Ha fatto tabula rasa di tutto Questo Mateus E quindi Tanto di cappello E passiamo al prossimo replay L'ultima difesa Tanto per cambiare È stata fatta di nuovo da Mateus Questa volta Si è preso purtroppo una stella Ma l'ho voluta mettere comunque Perché è stata una difesa Veramente assurda È stato attaccato con un Goey Weepy Quindi sia le streghe Sia i pecca Ma ha fatto veramente bene Allora come vedete L'attaccante Questa volta Ha mandato le truppe Molto bene Perché entrano tutte subito E anche le pozioni Che vedremo adesso Sono state mandate perfettamente Tra l'altro guardate Quanti maghi manda Cioè Un macello di maghi Ehm Le pozioni Han preso praticamente Tutte le truppe Ma qui l'attacco Come vedete Si divide Un paio di truppe Vanno da una parte Un paio di truppe Vanno dall'altra E dal castello Escono come al solito Due mongolfiere E un draghetto Come vedete La veleno È stata lanciata Male Perché purtroppo Il re barbaro È aggirato E le truppe L'hanno seguito E quindi sono uscite Dal raggio Tranne il drago Che è un pezzettino Rimasto Ma il drago Veramente La pozione Non fa niente Il drago Il barbaro Quindi è morto subito Senza neanche attivare L'abilità Ehm I maghi qua Verranno maciullati Muore solo Una mongolfiera E l'attacco Continua dall'altro lato Infatti qua vediamo che Le truppe sono molto lente A raggiungere L'altro lato del villaggio Ma guardate qua che culo Beccano la regina Cioè L'unica truppa Che poteva fermare Queste truppe Era la regina Ed è quella Che viene beccata Infatti anche lei muore Non attiva neanche l'abilità Qui veramente La sfiga più totale Perché c'erano due bombe giganti Infatti muoiono Tutte le truppe E veramente ragazzi Guardate qua Due golem Al tre In quanto Muoiono Cioè Vengono veramente Tritati Cioè io non ho mai visto Una cosa del genere Non hanno scampo In un secondo Vengono distrutti Tutti quanti i golem Vengono prima divisi E poi distrutti Anche i golem più piccoli Ma purtroppo Come avete visto qua Una strega È riuscita a fare Il 50% Qua c'è uno scheletrino Forever alone Che cerca di distruggere La fabbrica Delle incantesimi Ma non ce la fa Con questo ragazzi Ho detto tutto Io spero che il video Vi sia piaciuto Come avete visto Queste sono truppe Veramente forti A utilizzare Come al solito Vi ringrazio Per tutti i mi piaci I commenti E le iscrizioni Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti